cari amici di fano tv la più cordiale buonasera in questo approfondimento in studio parleremo di fuori brodetto l'iniziativa realizzata in collaborazione con la federazione dei ristoranti di pesaro urbino aderente a confesercenti fino alla 19 novembre ritorna in discusso protagonista il piatto più prelibato della nostra tradizione marinara il brodetto per l'appunto a parlarne i nostri ospiti in studio diamo il benvenuto al direttore di confesercenti fano matteo radicchi buonasera buonasera e buonasera responsabile sindacale di confesercenti fano stefano mirisola buonasera allora partiamo subito dall'iniziativa che cos'è fuori brodetto fuori brodetto è un'iniziativa veramente importante perché la prosecuzione naturale del bordetto fest il nostro evento principale della stagione che si è svolto la prima settimana di giugno con il termine fuori brodetto quest'anno abbiamo voluto centrare due significati particolari uno è il fuori brodetto sta a significare che si svolge in un periodo temporale diverso dal brodetto fest ovvero dal 6 ottobre al 19 novembre quindi si cerca in qualche modo di destagionalizzare si cerca di creare economie ai ristoratori anche in periodi come ottobre novembre dove fisiologicamente parlando il ricavo potrebbe in qualche modo diminuire l'altro significato che abbiamo voluto dare quest'anno è quello di portare al di fuori dei confini territoriali fanesi uno dei prodotti tipici uno dei piatti tipici della marineria fanese che è il brodetto infatti quest'anno dei 32 ristoranti aderenti ben sei sono del territorio pesarese uno di marotte uno di cogliere metauro quindi si è venuta a creare veramente una bella sinergia non soltanto tra i ristoratori ma il nostro obiettivo principale è quello di creare rete fare impresa non soltanto tra ristoratori quindi esercenti ma anche tra territori diversi se possibile anche tra amministrazioni differenti quindi questa iniziativa dà la possibilità di degustare questo piatto tipico anche fuori stagione ad un prezzo diciamo anche simbolico se vogliamo e di questi 32 ristoranti che hanno accolto la proposta poi si svilupperà tutta una serie di eventi speciali in che cosa consiste il tutto praticamente per il periodo che va dal 6 ottobre al 19 di novembre sarà possibile gustare nei ristoranti appunto che troverete all'interno del materiale promozionale che abbiamo distribuito in grande scala la zuppa tipica di fano ma non sarà tutta fanese perché appunto come diceva il collega radicchi sarà riproposta anche secondo quelle che sono le ricette la rivisitazione dei ristoranti di marotta di collier metauro e di pesaro in questo periodo oltre a poter gustare appunto la zuppa nei vari ristoranti ci sarà anche l'occasione di partecipare al contest quindi queste 32 serate speciali dedicate ognuna ad un ristorante dove ci sarà questa bellissima competizione anzi gustosissima direi visto che parliamo di cibo dove si sfideranno gli chef dei ristoranti e a votare sarà una giuria tecnica ma soprattutto i clienti che per quella sera si trasformeranno in giudici allora vogliamo ricordare che i ristoranti appartenenti a questo circuito sono contraddistinti da un apposito logo sì i ristoranti che partecipano al fuori brodetto hanno all'uscita del o all'entrata del loro locale un totem promozionale dove troverete scritto appunto fuori brodetto e nel nostro sito www.brodettofest.it troverete tutta la lista dei ristoranti e potete già prenotare fin da subito quelle che sono le serate speciali perché fin già dal 9 di ottobre inizierà la prima quindi una giuria tecnica unitamente ad una giuria popolare sì una giuria tecnica composta dall'associazione professionale cuochi italiani dall'accademia italiana gastronomica dai discepoli di escofè la scende rosti ser e dai tre esperti della fano gastronomica quindi ci sarà tutto questo gruppo coordinato dallo chef antonio bedini con la collaborazione anche di corrado piccinetti fiorenzo giambattei hotel lorenzi ed alfredo antonaros che appunto gireranno tutti i 32 ristoranti per cercare di selezionare i due migliori con l'aiuto naturalmente della giuria popolare i due chef che verranno scelti verranno ritenuti i migliori della nostro del nostro territorio si sfideranno alla serata finale che si terrà il 26 di novembre a villa piccinetti e ci sarà poi anche un premio sì un premio molto importante oltre al riconoscimento alla targa in cui praticamente si ringrazierà il ristorante per aver diciamo creato la versione migliore del brodetto fanese e ci sarà anche un altro premio importante che sarà un viaggio a gandia e appunto per partecipare al concorso internazionale della fidevoa e rappresentare il nostro territorio e l'italia a livello europeo fuori brodetto sicuramente è un'iniziativa stimolante per tutta la filiera assolutamente sì uno dei ruoli principali dei confesarcenti proprio un ruolo istituzionale è quello di creare associazione aggregare i vari ristoratori le varie categorie economiche per far sì che la loro unione possa essere più proficua non soltanto non soltanto nei confronti delle altre categorie ma anche nei confronti delle istituzioni e nei confronti dei tavoli decisionali quindi l'aver ottenuto ben 32 adesioni quindi 32 imprenditori che hanno creduto nel nostro progetto che hanno deciso di fidarsi tra virgolette dei nostri progetti a noi di confesarcenti da veramente grande soddisfazione soprattutto i movimenti in momenti come quello attuale momenti economici davvero difficili dove l'unione deve essere veramente l'input necessario e indispensabile per cercare in qualche modo di uscire da questa situazione sicuramente un'iniziativa stimolante per i 32 ristoranti che come abbiamo ribadito hanno accolto come si dice a braccia aperte la proposta no assolutamente sì per noi è un vanto che 32 ristoratori che poi mi sembra sia l'edizione record in quanto a partecipazione perché a volte creare sinergie fare rete non è sempre così semplice si parla spesso di filiera qua la filiera è veramente corta perché grazie alle collaborazioni con l'azienda di antonio gaudenzi e la nuco promo quindi aziende leader nel settore del pescato locale la filiera dicevo è veramente corta perché si passa dal pescato freschissimo e di ottima qualità a le tavole dei ristoratori della nostra costa quali sono le novità di quest'anno di questa edizione per prima soprattutto e cercare di alzare il livello qualitativo del prodotto offerto appunto come diceva matteo radicchi da quest'anno è nata questa collaborazione con questi due grossi fornitori locali di pesce per portare a tavola il pesce fresco il pesce a miglio zero questa era una prerogativa diciamo dell'organizzazione appunto come confesi arcenti ma anche in collaborazione con la fanno gastronomica il comune di fanno per noi un tassello importante cercare di spiegare far capire non solo al ristoratore ma anche al cliente finale l'importanza del pesce fresco e quindi questa è stata la novità dell'anno quindi anche il periodo andare a prendere un periodo appunto dove c'è il pescato fresco così anche come la novità appunto è stata quella di allargarci fuori dal territorio fanese una novità molto importante che è venuta diciamo da sé fortunatamente visto che abbiamo avuto tantissime richieste di adesione perché è un progetto che ormai va avanti da anni ha avuto un successo grandissimo soprattutto anche il festival del brodetto che si è tenuto quest'estate diciamo ha fatto da traino a questo entusiasmo abbiamo dovuto purtroppo anche dire ad alcuni di no perché se no ci dovevamo allargare troppo per assurdo ma promettiamo che il prossimo anno ci impegneremo per allargarla ulteriormente a proposito di brodetto fest ecco nonostante la vitalità dei mesi estivi questo evento è veramente un supporto strategico per i ristoratori è un supporto strategico per più motivi uno come dicevamo prima perché è organizzato in un periodo dove i ricavi delle attività fisiologicamente hanno una flessione e due perché veramente quest'anno usciamo da una situazione non facile i dati sono allarmanti nel senso che c'è stato un calo del turismo oltre il 20 per cento quindi imprenditori che si sono trovati ad affrontare una stagione quella del 2023 magari effettuando degli investimenti investimenti anche importanti nelle loro attività si sono visti poi affrontare un periodo dove i ricavi non hanno atteso le aspettative quindi con questa iniziativa cerca cerchiamo in qualche modo di arrecargli un sollievo quindi fino al 19 novembre si può godere di questa iniziativa e sul vostro sito troveremo poi tutte le tappe tutto il percorso sì allora il percorso comincia il 9 di ottobre con l'osteria dalla peppa il 10 di ottobre il ristorante gatto pardo 11 ottobre il borgo del faro 12 ottobre la taverna dei pescatori 13 ottobre isabetta rondina chef al circolo tennis baratov il 14 di ottobre al caffè del porto 17 ottobre il giardino dei sapori 18 ottobre la perla 19 ottobre volta della ginevra 20 ottobre il barone rosso 22 ottobre la vecchia fano 24 ottobre villa marina 25 ottobre il galeone 26 ottobre la liscia da mister ori il 27 ottobre alla baia delle sirene poi andiamo al mese di novembre con il 2 le cesarine 3 novembre al vecchio doc 4 novembre da santin 7 novembre sapori romani 8 novembre la mandria 9 novembre gibas 10 novembre la riva da franco 11 novembre casoliva 12 novembre da ciarro 13 novembre dalla vecchia zeada 14 novembre fuori via 15 novembre osteria da ugo 16 novembre cruiser caffè restaurant 17 novembre lo scudiero 18 novembre la coppa e il 26 di novembre la serata finale a villa piccinetti quindi non solo i ristoranti della costa e svalicando anche un po i confini ma anche quelli del del nostro entroterra www.prodettofest.it per reperire tutto il programma allora tutti i ristoranti metteranno a disposizione la loro sapienza in cucina e anche qualche segreto personale per dare un tocco per l'appunto personalizzato ma questa è la celebrazione dell'eccellenza del territorio è vero ma anche dei prodotti di qualità e soprattutto dei prodotti freschi assolutamente sì negli ultimi anni ma oramai da parecchi anni si è dimostrato come i prodotti tipici le particolarità le peculiarità della cucina territoriale possano fungere da volano un po per tutta l'economia del territorio e i prodotti tipici della marineria fanese tra cui anche il brodetto di pesce sicuramente rappresentativo questo discorso qua ma lo sono altrettanto importanti anche altri prodotti tipici del territorio fanese come ad esempio la moretta fanese su cui stiamo lavorando abbiamo iniziato a lavorarsi non tanto a fini pubblicitari o chissà che scopo il nostro scopo ultimo è soltanto quello della promozione del territorio e favorire in qualche modo le economie degli associati un altro prodotto che stiamo spingendo è la birra la birra artigianale quest'estate un po per gioco un po per scherzo abbiamo proposto la birra al brodetto di pesce ma vista il successo dell'iniziativa e i consensi dei più esperti abbiamo deciso di riproporlo anche all'interno del fuori brodetto infatti i ristoratori avranno la possibilità nelle loro serate di proporre la birra del brodetto una birra speciale da abbinare alla zuppa di pesce brodetto e birra è sicuramente un connubio da da provare ma tra le novità tra le tipicità oltre al brodetto e oltre alla birra ce ne sono anche altre proposte sì come dicevamo prima la collaborazione con la fano gastronomica non si limiterà solo al discorso della qualità ma anche al proporre all'interno delle serate speciali prima del brodetto un piatto della tradizione marinara che potrà essere un antipasto oppure un primo rispettando quella che la tradizione ed abbinato anche ad un grande classico che il bianchello allora possiamo fare anche una sorta di bilancio in un anno di un anno e mezzo un anno e mezzo di direttivo assolutamente sì è un anno e mezzo circa che si è costituito il nuovo direttivo di confesar centi pesa l'urbino e nostro la nostra mission iniziale era quella di rimettere a posto le cose all'interno di casa nostra ricreare ricompattare la struttura perché non potevamo andare all'esterno dei nostri uffici se noi in primis non eravamo ben coesi questo è stato fatto è stato creato un nuovo gruppo dirigenziale che si confronta su tutto prende le decisioni gruppo dirigenziale che ha avuto anche il merito di fungere da collante tra tutti i nostri collaboratori e i nostri dipendenti fatto questo siamo usciti dai nostri uffici abbiamo ricostituito associazioni delle costole importanti di confesar centi come la FIEPET la federazione dei ristoratori dei pubblici esercizi del turismo dotata di un proprio organo direttivo si confrontano spesso sulle problematiche del momento le problematiche vengono poi riportate nei nostri tavoli e noi cerchiamo in qualche modo di risolverli è stata ricostituita Assotel l'associazione degli albergatori ad oggi ci possiamo vantare sulla costa sulla dorsale adriatica di circa 60 strutture alberghiere che vanno da Gabizze a Marotta una sinergia importantissima perché oltre a condividere le esperienze positive perché un'iniziativa fatta a Gabizze può essere riproposta a Marotta o viceversa oltre questa funzione qua ha anche lo scopo di avere un peso maggiore maggiore influenza poi nei tavoli decisionali accanto a queste due associazioni vorrei ricordare anche i servizi che Confesarcenti quotidianamente propone perché al di là dei servizi tradizionali della contabilità delle paghe sempre fatti con grande professionalità ed esperienza nell'ultimo anno e mezzo abbiamo anche potenziato alcuni settori come quelli del caffè patronato con notevoli investimenti sia a livello di strutture ma anche investimenti sulle risorse umane con dei colleghi e dei dipendenti nuovi dotati di grande esperienze e professionalità quindi possiamo dire che ad oggi l'imprenditore se viene in Confesarcenti ha un servizio a 360 gradi sia per quanto riguarda la propria attività imprenditoriale ma anche per quanto riguarda l'altra impresa passatemi il termine che è quella di gestire la propria famiglia il proprio nucleo familiare perché ad oggi gestire il proprio nucleo familiare nella marea burocratica che si viene a creare veramente veramente un'impresa quindi tramite il caffè il patronato noi li possiamo assistere per tutte le loro esigenze. Mi sembra un bilancio più che soddisfacente. Siamo molto soddisfatti però questa soddisfazione è più che altro uno stimolo per poterci migliorare sempre e continuare a crescere il più possibile. Prima dei saluti finali ci sono dei ringraziamenti. Sì ringraziamenti d'obbligo a parte a tutto il gruppo dirigente Confesarcenti per la fiducia che dà a livello organizzativo e dobbiamo ringraziare anche la Camera di Commercio delle Marche, il Comune di Fano, la Regione Marche, la Fano Gastronomica, i nostri partner Antonio Gaudenzi e la Nuco Promo, Villa Picinetti e non per ultima la BCC con cui ha mostretto una collaborazione ed anche una convenzione per i loro soci che hanno una scontistica particolare per le serate. L'invito ai telespettatori. Mi lasci sempre l'invito, tutte le volte che sono qua devo sempre invitare. Benissimo, allora vi aspettiamo dal 6 ottobre al 19 novembre per il fuori bordetto in tutti i ristoranti aderenti. Mi raccomando accorrete numerosi, venite a votare e scegliete la vostra zuppa preferita. Grazie allora a Matteo Radicchi per essere stato con noi. Grazie per l'ospitalità. Grazie a Stefano Mirisola. Grazie a voi. Grazie al pubblico a casa, a Roberto Magrelli che ci ha supportato in regia. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao.